Due soggetti denunciati all'autorità giudiziaria per coltivazione e detenzione fini di spaccio di sostanze superfacenti, un soggetto arrestato in flagranza di reato, quasi 900 piante di cannabis indica sequestrate e circa 190 kg di sostanza superfacente rinvenuta che avrebbe prodotto illeciti guadagni per oltre 2 milioni di euro. Questo è il bilancio di tre operazioni antidrogue effettuate nelle località di Casaluce, Macerata Campania e Marcianise, la Guardia di Finanza e il Comando Provinciale di Caserta. Le ultime operazioni, nate a seguito degli input forniti dalle perlustrazioni aeree dei finanziari e la sezione aerea dei Napoli, hanno permesso alle fiamme gialle di Aversa, Caserta e Marcianise, a seguito di mirate attività investigative, di individuare e sequestrare tra la fine di luglio e l'inizio di settembre ben tre piantagioni di droga. Nello specifico i militari del gruppo di Aversa hanno individuato a casa luce una coltivazione di cannabis indica composta da 226 piante dall'altezza di circa un metro e numerosi attrezzi utilizzati per la coltivazione. I militari hanno sequestrato la sostanza stupefacente rinvenuta del tipo marijuana del peso complessivo di circa 46 kg. I baschi verdi del gruppo di Caserta hanno scoperto invece sequestrato a Macerata Campania una piantagione di cannabis composta complessivamente da 523 piante di cui 13 di oltre 5 kg cada uno e all'interno di un adiacente laboratorio 140 kg di sostanza stupefacente di tipo cannabis. Risale invece a tre giorni fa l'ultima operazione gestita congiuntamente dai baschi verdi del gruppo di Caserta e dai militari la compagnia di Marcianise a seguito della quale è stata individuata e sottoposta a sequestro una piantagione di cannabis per complessive 130 piante ed oltre 3 kg di sostanza stupefacente di tipo cannabis. Anche in questi ultimi casi gli accertamenti e le analisi effettuate hanno appurato la presenza nelle sostanze sequestrate di un principio attivo superiore ai limiti consentiti dalla norma. Sono stati anche sequestrati i materiali, gli strumenti utilizzati per l'esticcazione e la lavorazione nonché lo stoccaggio e la distribuzione del narcotico.